Ben ritrovati amici di Padre Pio TV. In questa puntata di Spazio Salute parleremo dell'anestesia e ce ne parleranno il dottor Giuseppe Melchionda che è il primario dell'unità di anestesia e rianimazione 1 e la dottoressa Grazia De Angelis che è medico anestesista sempre nella anestesia e rianimazione 1 di casa, sollievo della sofferenza. Partiamo un po' dagli albori, partiamo da quello che storicamente è stato l'inizio di quella che oggi è diventata l'anestesia e chiediamo al dottor Melchionda. Com'era la chirurgia prima della scoperta dell'anestesia attuale? Prima dell'anestesia attuale o meglio dell'anestesia moderna la chirurgia era in grossa difficoltà nel senso che il chirurgo non esisteva come attualmente noi consideriamo. Non c'era un medico che si occupava della chirurgia ma erano dei praticoni, tra virgolette, che non avevano una dignità proprio medica, ma avevano una dignità perché chiamate a risolvere delle situazioni piuttosto acute e importanti. Questo è una dimensione molto povera, cioè il chirurgo non esisteva. Emerge nella scala della dignità, se vogliamo, di quello che poi è la scienza medica con l'anestesia. L'anestesia incominciò una primavera straordinaria fino ad arrivare alle attuali possibilità di risolvere problematiche di trattamento chirurgico e il chirurgo ha acquistato anche una dignità. Una dignità ha scalato i gradini di quello che era il famoso medico di una volta. Allora c'era il medico, silenzioso, solerto, aveva la sua dignità, veniva al capezzale dell'ammalato e in qualche modo provvedeva alle terapie. Il chirurgo no, era considerato, Celso lo considerava nella storia, un omone giovane, pieno di energia che doveva risolvere pochi problemi perché pochi problemi potevano essere risolti chirurgicamente. Ecco, ma all'epoca, cioè quando la chirurgia era in mano a questi che acquisivano questo mestiere un po' per pratica e che risolvevano quello che il medico non riusciva a risolvere, facevano il tentativo disperato di intervenire in maniera violenta sul corpo per tentare di salvare il salvabile, che cosa succedeva? Il malato non era addormentato? Assolutamente no, per cui un sintomo fondamentale che poi tolsero e nessuno se ne accorse era l'urlo, cioè la disperazione di questo poveretto che nella convinzione di poter avere un trattamento doveva pagare come scotto le urla, l'agitazione e questo non era certo fatto bene, cioè la dignità della persona non veniva certamente presa in considerazione. Ad aggiungere che i risultati dei trattamenti, tra virgolette, chirurgici, erano piuttosto scarsi, con un alto indice di mortalità. E invece la nascita dell'anestesia, che ha una data precisa, a quanto sappiamo che ora sarà risonoto a tutti, ha cambiato completamente le cose. Allora, cosa è successo e quando è successo? Cioè il 16 ottobre del 1846, io ritengo quella la data di inizio dell'anestesia moderna, si è realizzato il primo intervento in anestesia generale, per inalazione, perché se la nascita è allora il 16 ottobre, è tutto un periodo di preparazione e di maturazione che ha portato appunto a questa bella fotografia, teatro, sala operatoria del 1846. Cioè questa è la foto di quel primo intervento storico? La foto originaria, sì, originaria che mette in evidenza come i due attori principali, non che il terzo, che era il paziente, dovevano provvedere alla rimozione di una formazione al collo. Warren, nel Massachusetts General Hospital, americano sempre, aveva invitato Morton, un dentista, non odontoiatre come intendiamo noi, ma chi praticava la rimozione dei denti, perché solo allora quello si poteva fare. Però aveva scoperto una cosa interessante, che utilizzare un anestetico, no, un farmaco, no, un prodotto chimico, che era l'etere, riuscivano ad ottenere quelle che sono le condizioni ottimali per poter intervenire. Ottimale significa non grida, non agitazione e quindi silenzio che attualmente noi abbiamo nelle saloperatorie. È obbligo della coscienza, abbandono del paziente e il paziente poteva essere trattato. Warren, in quelle circostanze, disse in espressione molto felice, questo non è un imbroglio, perché faceva riferimento sempre a una sperimentazione fatta qualche anno prima, per questo io penso che il 46 è l'età giusta per rendere consapevole l'uso di farmaci per la chirurgia, per l'anestesia utile per la chirurgia, perché dice questo non è un imbroglio, perché qualche anno prima, sempre Morton, usò il protossido di azoto che già c'era, però la condizione del paziente a un certo punto si era svegliato e fece brutta figura, tanto per parlare in modo molto semplice. Da qui Warren ripetè l'esperienza con l'etere, approfondendo in modo piuttosto importante e disse no, questo non è un imbroglio, questa è una realtà. Funziona. Funziona, entusiasmo, commozione da parte di tutti gli astanti in questa sala, perché quella era una sala, tuttora si dice alla stessa cosa, sala operatoria, sala operatoria di allora è ovvio con le condizioni ambientali molto diverse rispetto alle attuali. Il fatto di aver scoperto o spostato l'etere da quello che erano l'uso nei festini o come funzione ricreativa in ambienti diversi, diversi dalla medicina, avevano spostato i termini della modernità. Erano moderni, per cui questa bella scoperta aveva riempito già il mondo scientifico di allora, per cui l'etere era assurda a dignità di anestetico. Però oggi l'etere non si usa più, quindi c'è stata un'evoluzione da quel 16 ottobre 1846 ad oggi. Perché non si usa più l'etere e quali sono i vantaggi dell'attuale anestesia rispetto a quella moderna 1846 dell'etere? I passi sono stati giganti perché l'etere era monofarmaco, però sospendendolo l'agitazione ci stava, ma altri interventi non si poteva fare se non quelli di superficie. L'intervento delle scoperte di altri farmaci, vedi cloroformio che è più o meno alla stessa epoca, cloroformio che è usato anche dalla regina Vittoria per il suo settimo parto, per cui finalmente possono non sentire dolore, è la scoperta di sistemi che controbilanciavano le depressioni di questi farmaci, perché possiamo parlare di farmaci solo da allora utili per l'anestesia. I narcotici, parliamo da allora, adesso ci sono i narcos, vabbè è un'altra cosa, però i narcotici erano quelli che servivano per dare ipnosi e davano contro il dolore, quindi antidolorifico. I migliorilassanti, quei farmaci che poi sono stati usati nelle chirurgie generali addominali e tuttora si usano, è una scoperta molto più tardiva del secolo scorso, 1940-45, il curaro, il migliorilassante nobile, scoperto perché la scienza è fatta anche di pionieri che andavano in giro, nelle conoscenze, perché la conoscenza è fatta camminando pure, andando a conoscere civiltà diverse, scoprirono che in Amazzonia le punte delle frecce che usavano gli aborigini erano ricchi di questa sostanza, che loro usavano a scopo di uccidere gli uccelli, per cui si paralizzavano, cadevano e potevano essere catturati. Questa cosa qui, le immagini i geni sono quelli che hanno spostato sull'uomo l'uso di qualche cosa che era scarsamente utile per l'uomo, era utile per la caccia, era utile per altri motivi, l'etere era utile per i festini, qualcuno lo usò per altre cose. Paracelso nel 1500 e passa, 1540 più o meno, aveva intravisto nell'etere un farmaco utile per essere usato in alcune manifestazioni dolorifiche, mentre il vero successo avviene con la scoperta dei ventilatori, perché le depressioni ventilatorie non potevano essere utilizzati, o meglio non potevano essere contrastati, antagonizzati con altra cosa, se non assistenza esterna, vedi i palloni di Ambu, che è stata un'altra bella scoperta, vedi le mascherine, vedi i raccordi. Ogni cosa che noi attualmente usiamo è stato un passo della scienza, attualmente l'anestesia è fondamentale, proprio perché non è adiuante, è manco fino a se stessa, sembra strano, ma di anestesia nessuno viene e chiede anestesia, utile per i trattamenti chirurgici e attualmente anche non chirurgici, vedi endoscopie, vedi aiuto nelle risonanze magnetiche, vedi nelle procedure extrasaloperatorie, però il principe dell'anestesia è saloperatoria. Abbiamo fatto un po' la storia di questa branca della medicina, scoprendo anche quando è diventata tale e adesso cerchiamo di parlare dei due tipi di anestesia, cominciamo con l'anestesia generale, di cui ci parla adesso con un contributo esterno il dottor Antonio Caso, anestesista sempre in servizio presso la prima anestesia e reanimazione di Casa Sorlievo della sofferenza, ascoltiamo il suo contributo. Oggi ci troviamo nella sala operatoria di chirurgia addominale dell'ospedale Casa Sollievo della sofferenza, dove la nostra paziente viene sottoposta ad un intervento di chirurgia intestinale con un approccio laparoscopico. È indicata un'anestesia generale. Come viene effettuata? La paziente viene accolta in sala, viene sottoposta, vengono posizionati i primi presidi tra cui un accesso venoso, viene effettuata una pre-anestesia dove noi cominciamo a prevenire quello che è lo stress inevitabile per un paziente che si sottopone ad un intervento chirurgico, dopodiché il paziente viene accompagnato in sala operatoria e comincia l'anestesia generale che si compone di alcuni momenti. Il primo momento viene chiamato induzione, detto in termini semplici vengono somministrati dei farmaci anestetici per cui la paziente viene addormentata. Accanto a questo comincia il mantenimento dell'anestesia. L'anestesista sorveglia ogni parametro del paziente sulla base degli sistemi di monitoraggio di cui dispone. Abbiamo a disposizione un monitoraggio neurologico, un monitoraggio respiratorio, un monitoraggio della temperatura corporea, un monitoraggio neuromuscolare e un monitoraggio cardiovascolare che ci consentono di monitorare il funzionamento degli apparati e dei sistemi della paziente in ogni momento. Successivamente ci possono essere o il momento del risveglio oppure un proseguimento del decorso in terapia intensiva dove il risveglio avviene in maniera più lenta e più protetta, sempre sulla base del monitoraggio stesso. Ma non sempre è necessario e utile addormentare completamente il paziente per sottoporlo ad un intervento chirurgico. Esiste infatti una anestesia denominata loco-regionale. Noi abbiamo sempre chiamato anestesia locale ma il termine corretto è loco-regionale. Per capire come nasce questa ulteriore evoluzione dell'anestesia lo chiediamo alla dottoressa Grazia De Angelis che come abbiamo ricordato all'inizio del programma è anestesista presso la prima anestesia di rianimazione di Casa Solliva. Allora come si passa dalla generale alla loco-regionale? Allora sono cose effettivamente unite ma diverse. L'anestesia locoregionale possiamo dire che è iniziata nel 1860 quando Niemann Albert ha scoperto che la cocaina ha un effetto anestetizzante. Qualche anno dopo nel 1884 è stato proprio inoculato la cocaina su un nervo per un intervento sulla mascella. Questo è stato praticamente un inizio, un inizio che è andata sia nei giorni nostri perché l'uomo ha sempre cercato di lenire il dolore essenzialmente sia durante l'intervento ma anche dopo. L'anestesia locale ha una storia un po' diciamo che segue l'anestesia generale però in realtà si discosta perché l'anestesia locale non è altro che un'anestesia di un determinato distretto e questo vale bene gli interventi di chirurgia ortopedica perché sappiamo le fratture possono interessare all'arto superiore o all'arto inferiore ma non solo. Comunque per tornare alla storia dell'anestesia locoregionale possiamo dire che si è passata da un'anestesia a cielo proprio completamente chiuso, scuro, ad un'anestesia dove con l'arrivo dell'elettrostimolatore negli anni 90 abbiamo incominciato a vedere un'anestesia molto più diciamo importante nel senso che con un ago collegato ad un elettrostimolatore andavamo alla ricerca di un determinato nervo e questo se la contrazione di un muscolo ci faceva rendere conto se effettivamente quello era il nervo che noi cercavamo. Tutto questo è possibile perché sull'organismo abbiamo una mappa geografica che non è altro che la proiezione dei nervi sulla nostra cute. Quindi noi sappiamo come se abbiamo bisogno di addormentare una parte dell'organismo sappiamo i nervi che corrispondono. Sicuramente gli anni 90 con l'arrivo dell'elettrostimolatore hanno cambiato il destino dell'anestesia però già nel 1978 le Grange avevano cercato di effettuare un'anestesia ecoguidata nel senso che non avevamo ancora quegli ecografi così performanti per il nervo però questo autore ha depositato l'anestetico intorno ad un'arteria perché sappiamo che vicino un'arteria c'è sempre un nervo. Gli anni 2000 però hanno fatto la rivoluzione per quanto riguarda l'anestesia locoregionale perché finalmente siamo passati dal guidare una 500 a guidare una Ferrari nel senso che finalmente quello che immaginavamo lo possiamo vedere. Quindi vediamo il nervo, vediamo come depositiamo l'anestetico intorno al nervo, non facciamo nessuna lesione sul nervo perché siamo ben lontani e quindi diciamo l'ecografia ha cambiato, ci ha aperto un mondo nuovo, uno spazio veramente incredibile. Ecco però l'anestesia locoregionale impedisce che il paziente senta il dolore però di fatto il paziente rimane sveglio quindi l'impressione di subire un intervento ce l'ha. No perché il paziente è sveglio però noi associamo una sedazione cioè diciamo diamo conforto anche al paziente non lasciamo mai che il paziente possa subire diciamo tutto il tipo di anestesia anzi facciamo in modo che non sia un trauma. E quindi qual è il vantaggio di visto che il paziente comunque è sedato di aggiungere anche l'anestesia locale? No è una blanda sedazione il paziente rimane vigile e cosciente a differenza dell'anestesia generale dove viene annullato lo stato di coscienza. Qui noi parliamo con il paziente a volte facciamo anche diciamo barzellette proprio per fare in modo che il paziente si senta a suo agio. Quindi il paziente è cosciente ma non ha quella sensazione spiacevole perché appunto viene sedato con dei farmaci abbastanza blandi. E ora vediamo proprio praticamente come si effettua l'anestesia locoregionale. Ce lo spiega in questo contributo il dottor Raffaele Russo anche lui anestesista della prima anestesia e rianimazione di casso sollievo della sofferenza. Ci troviamo in sala operatoria di ortopedia dell'ospedale casso sollievo della sofferenza dove più del 90% degli interventi vengono eseguiti in anestesia locoregionale dalla quale si trae un beneficio importante. Per fare questo abbiamo a disposizione due presidi fondamentali. Uno è l'elettrostimolatore. Erogando con il nostro ago una corrente elettrica riusciamo a determinare una clonia e attraverso di essa abbiamo un movimento dell'arto che ci dice quale nervo dobbiamo andare ad anestetizzare. Iniettando così una determinata quantità di farmaco anestetico. Altro presidio fondamentale che utilizziamo già da diversi anni in questo ospedale è l'ecografo. L'ecografo è l'innovazione proprio perché con esso riusciamo a vedere i nervi, le strutture vascolari, le arterie e le vene e quindi non pungerle e indirizzare l'ago precisamente sul nervo che dobbiamo anestetizzare. Ottenendo quindi l'anestesia di quella zona innervata dal nervo che ci interessa. Questi presidi come ho detto sono fondamentali per il paziente perché riducono le complicanze anche rispetto all'anestesia locoregionale. Pensiamo ai benefici di questa tecnica rispetto all'anestesia generale. Inoltre la cosa principale è l'anestesia post-operatoria che risulta prolungata, si riducono gli effetti collaterali come nausea, vomito e si facilita la riabilitazione precoce del paziente. Sono tutti effetti che vanno a beneficio del paziente e permettono una rapida ripresa nel comfort generale del paziente. Ora questa ulteriore evoluzione dell'anestesia si è organizzata anche dal punto di vista associativo tanto è vero che è nata una società anche a livello europeo, la società europea di anestesia locoregionale di terapia del dolore che proprio poco tempo fa dal 25 al 27 ottobre si è riunita in congresso a San Giovanni Rotondo presso il centro di spiritualità Padre Pio. Dottoressa De Angelis, di cosa si è parlato e qual è il ruolo di Casa Sollievo nell'ambito di questa società europea? A San Giovanni abbiamo parlato essenzialmente di queste tecniche eco guidate e di tutto ciò che ha portato l'innovazione da parte dell'ecografo. Inoltre sono stati effettuati dei workshop affinché i giovani anestesisti o anche anestesisti che non sono ancora dedicati a questo tipo di anestesia potessero vedere quali sono le condizioni e quali sono effettivamente una situazione migliore rispetto all'elettrostimolatore. Si è parlato anche dell'analgesia post-operatoria co-guidata cioè l'anestesia praticamente grazie all'ecografo siamo usciti dalla sala operatoria dell'ortopedia nel senso che l'anestesia locoregionale adesso interessa anche altre chirurgie come la chirurgia la chirurgia toracica e la chirurgia senologica perché proprio con l'ecografo riusciamo a vedere quei nervi che altrimenti non avremmo mai visto e iniettare con anestetico locale a durata d'azione lunga per dare un'analgesia post-operatoria cioè se in queste chirurgie non effettuiamo un'anestesia chirurgica con anestesia locoregionale però effettuiamo un'analgesia post-operatoria questo significa che il paziente non ha dolore per molti giorni, ha una ripresa maggiore e quindi praticamente la centralità del paziente in questo caso viene ancora ad essere più centrale di quello che generalmente noi consideriamo. Bene, come avete potuto vedere l'anestesia ha un passato, una preistoria, una storia, un presente ma anche un futuro e con questo vi salutiamo ringraziando il dottor Melchion della dottoressa De Angelis e dandovi appuntamento a Fra Sette Giorni.